Due parole su cosa vi dovete aspettare da questa presentazione. Il titolo è Una teoria del tutto è possibile. Essenzialmente sia la presentazione ma più articolatamente il libro su questo tema ha un obiettivo piuttosto ambizioso. Primo, secondo me, quello non è ambizioso. Rendere ben chiaro il fatto che una teoria del tutto non è possibile, non è una cosa che è la condizione umana e il libro prova a far cogliere anche il perché io trovi che questo sia un aspetto di straordinaria bellezza della condizione umana, cioè che una teoria del tutto non ci è dato avere è una delle cose più belle della nostra condizione. Non so se passerà oggi ma era uno degli obiettivi del libro. Parte di questo, uno dei fastidi che questo libro ha trovato energia in questi disagi, c'è un fisico grandissimo, Steven Weinberg, premio Nobel, che però nella divulgazione in particolare ha scritto un libro che si intitola Dreams of the Final Theory, sogno di una teoria finale. Per me è doloroso un titolo così, diciamo. Proporre per tutti da condividere un sogno di una teoria finale per motivi che coglierete in questa presentazione è un'aberrazione per me. Parte di questa presentazione è appunto farvi capire perché per me non è proprio un sogno avere la teoria finale. Non è possibile ma se fosse possibile non la vorrei avere. Il punto più complicato e forse più interessante perché gli altri due sono in realtà elementari. Quello sottile è se si può fare buona scienza avendo in mente l'obiettivo di fare una teoria del tutto. Io per esempio ho molti colleghi, io non sono una persona religiosa ma ho colleghi di assoluta distinzione, grandissimi fisici che conosco bene, che sono persone di profonda convinzione religiosa. Quindi siccome una teoria del tutto, come vedrete, la mia posizione è che può essere solo un atto di fede, potrebbe essere nient'altro che una religione che accompagna il lavoro. Il problema è questo, quando si lavora da scienziati non c'è fede nel lavoro. Poi quando si chiudono i libri si può avere qualsiasi posizione personale. Io trovo, posso andare, non lo farò oggi, posso andare a spada tratta nel sostenere che nessuna fede religiosa interferisce con il lavoro di uno scienziato. L'unica fede che, e questo sarà un punto che spero riuscirò a comunicare bene oggi, l'unica fede che è dannosa al progresso scientifico è quello nella teoria del tutto, nell'idea di poter avere tutto. In parte, anche perché è una figura molto conosciuta, ma anche perché la ricchezza di quella figura dà tantissimi spunti per temi come quelli che mi stanno a cuore, vi parlerò anche il libro per alcune porzioni, usa il percorso di Einstein come riferimento, però guardandolo da una prospettiva che sinceramente non ho mai visto nella divulgazione scientifica, che è un po' più sul mito, sull'infallibilità, sulla grandiosità. Per me Einstein è un interessantissimo caso di studio sul metodo scientifico. Il più grande interprete senz'altro deve darci qualcosa di illuminante sulla natura di questo metodo. Tra le cose che vi dirò, spero coglierete che nonostante gli errori di Einstein che dovrò ripercorrere brevemente oggi, comunque noterete che in nessuna parte del suo percorso lui è diventato sostenitore dell'idea che ci potesse essere una teoria finale. Al contrario, il suo è uno dei più grandi manifesti contro l'idea che ci possa essere una teoria finale. Purtroppo, se non siete frequenti lettori scientifici non vi sarà capitato, ma se aprite ben pochi libri di divulgazione scientifica troverete presto l'idea di teoria finale e presto viene sfruttata la figura di Einstein come un riferimento, come se lui avesse provato, anche lui, fallendo, ma ci aveva provato. Beh, lui non ci ha mai provato a fare una teoria finale. Da dove viene questo tentativo di accaparramento, diciamo, di Einstein come padre dell'idea di una teoria finale? Ci sono due Einstein e dovrebbe, questo è un esercizio che, di nuovo, non ho mai visto fare nella divulgazione e secondo me invece è estremamente istruttivo su qual è il modo più efficace per far produrre progresso scientifico. Io ho fatto la foto grande dell'Einstein giovane, diciamo, l'Einstein, che poi in realtà tenete presente che nel 1919 Einstein aveva 40 anni, 40 anni un'età piuttosto giovane per uno scienziato. Molti scienziati fanno le loro migliori scoperte dopo i 40 anni. Quindi non è una separazione vecchio e giovane nel senso ordinario, è una separazione tra prima fase e seconda fase. C'è un fatto oggettivo che sembra che nessuno voglia sottolineare perché l'ha detto Einstein, no? Voi sapete, l'avrete trovato, chi di voi ha Facebook o i figli che hanno Facebook, avete visto, arriva la foto di Einstein, ha detto questo. Ah, l'ha detto Einstein. Questo è un altro dei piccoli obiettivi che avevo in questo piccolo libro. Si crea questa figura di Einstein così mitologica che per alcuni giovani che a me stanno molto a cuore, dei ragazzi di liceo come me, che sognano di diventare dei fisici come sognavo io, questa immagine mistica di Einstein propone un modello irraggiungibile perché non è reale, davvero irraggiungibile perché non l'ha raggiunto nemmeno Einstein. E quindi scoraggia. Io sono convinto, nel mio caso ci fu un piccolo effetto di questo tipo, di sentirsi inadeguati davanti al cospetto di una figura mistica. Uno da ragazzo scopre di risolvere bene di avere dei problemi, di essere un buon investigatore, ma non di avere doti magiche. E se quelle sono le doti per uno scienziato ci si sente tutti inadeguati. Parte della mistificazione è anche appunto tutto quello che ha detto Einstein è perfetto, non sbagliava mai. Invece c'è molto da imparare nella differenza di metodo, tra l'altro, tra due fasi einsteiniane molto nitide. C'è un periodo di soli undici anni, undici anni, in cui questo singolo investigatore ha prodotto quattro scoperte, tutte e quattro meritevoli di premio Nobel pesante. Poi ne parliamo, c'è una bella differenza tra premi Nobel e premi Nobel, a volte ci sono anni in cui non c'è a chi darlo, si dà un premio Nobel. Lui meritava quattro premi Nobel pesanti in undici anni. Sicuramente l'investigatore più abile della storia dell'umanità. Un uomo che sbagliava, che imparava dalla natura, ma molto bene, non è che uscirete da questa mia presentazione con un Einstein che era scarso. il più grande investigatore umano della storia e in realtà in soli undici anni. Molte delle frasi che vedete attribuite a Einstein, tipo Dio non giocava ai dadi, ha detto Einstein, c'era molto profondo. Quelle sono, molte di quelle cose ovviamente vengono dopo la sua fama mondiale che arriva nel 1919 e andrebbe anche occasionalmente sottolineato che Einstein dal 1919 al 1955, nel 19 ha 40 anni. Diciamo 40 anni per un fisico sono 28 anni per un calciatore, se qualcuno è appassionato di calcio. Si dice che a 28 anni un calciatore, no, prima è troppo giovane, dopo comincia un po' a declinare, tra i 40 e i 50 anni un fisico dovrebbe essere come Messi adesso, insomma. Lui zero, non c'è nessuna scoperta significativa dopo il 1919. Non è interessante il riferimento storico, è interessante chiederci perché. Era stanco. la tesi è che c'è stato un cambiamento di metodo, cioè il più grande investigatore della storia, semplicemente per aver cambiato metodo, in maniera che potreste anche definire minima, si è trasformato dal più produttivo della storia a uno scienziato ordinario, perché poi non è che... Certo, ecco, per darvi un riferimento, nella divulgazione attuale non si parla di quel periodo ansteiniano, ma Wolfgang Pauli, che è un altro premio Nobel, uno a cui dobbiamo tantissimo, ma un premio Nobel con pochi peli sulla lingua, mentre gli altri criticavano Einstein in maniera forbita perché era comunque Einstein. Pauli descriveva Einstein come produttore di immondizia a partire dal 1919. Questa frase che è molto citata tra i fisici... per... Ah, però questo... Questo non era previsto, perché io ce l'ho. Vediamo. Ecco. Allora, no, è solo che si deve essere perso... Forse è meglio che non uso questo, tanto sono qui davanti, perché credo che è questo qui che mi fa... No, qui la frase... Ai fisici europei piace ricordarla questa frase di Pauli, perché dice... L'immondizia che sta producendo Einstein in questi anni potrà talvolta affascinare i giornalisti americani, ma nemmeno i fisici americani troveranno nulla di buono in quello che sta facendo. Questo è un altro tema antico, diciamo. La linea di... Non c'è psicologia né in questa presentazione né nel libro. C'è il fatto oggettivo che questo 1919 che separa le due fasi astaniane è l'anno in cui lui da scienziato, molto rispettato nella comunità, ma sconosciuto ai più, nel 1919 diventa una pop star. Una pop star come non c'è mai stata e mai prima né dopo. Come è Einstein nella nostra coscienza di cittadini, non c'è mai stato prima uno scienziato così centrale né dopo. La sua vita viene stravolta dal fatto che una predizione fortemente caratterizzante della realità generale, la deflessione della luce, viene osservata sfruttando un'eclissi nel 1919. La cosa era stata già anticipata, la spedizione che andò a fare la misura era divisa in due parti, una in Brasile e una in Sudafrica perché l'eclissi da lì avrebbe funzionato meglio per la misura. Tutto il romanzo di quella scoperta, la teoria complicatissima che solo 5-6 fisici al mondo riuscivano a farci conti eppure avevano trovato con precisione quantitativa assoluta di quanto sarebbe stata deflessa la luce di stelle lontane dal sole oscurato. Diventa una pop star. Se ora voi ce l'avete su Facebook è per quel giorno lì, quel giorno dell'eclissi del 1919. Potrebbe aver avuto un ruolo ma non è mio compito. speculare, osservo solo la coincidenza temporale tra quel giorno dell'eclissi, prima di quell'eclissi c'è l'investigatore più efficace della storia dell'umanità, dopo quell'eclissi c'è un investigatore assolutamente ordinario. Un altro tema che mi è caro, di cui ecco ci sono bellissime eccezioni, però molta divulgazione scientifica finisce a romanzare, si vede nitidamente che l'autore ha l'impressione che la scienza è troppo grigia per presentarla com'è. Allora c'è tutto uno al lavoro di romanzare la scienza e a me piaceva prendere la sfida di non seguire quell'esempio. Io credo che la scienza sia, ovviamente è una mente distorta la mia, credo che la scienza sia meravigliosa, sia grigia, ma un grigio meraviglioso, il colore che più vale la pena conoscere. E quindi non ho voluto romanzare in nessun modo e quello che però con questo mio approccio, grigio, spero meraviglioso, sicuramente grigio, riesco credo a mettere in evidenza come non è possibile fare quando si romanza. È un aspetto di libertà che ci dà la scienza, per uno come me la parte di libertà più preziosa, non mi aspetto che voi usciate da questo incontro condividendo questa priorità, però sarebbe un bel successo se voi uscisse da questo incontro consapevoli che c'è un pezzetto della vostra libertà, per voi magari poco importante, per certi tipi strani come me il più importante, ma che c'è un pezzo di libertà che è dovuta a quel grigio per me meraviglioso che lavora in un certo modo. E quindi comincio, in realtà, la libertà che più voglio toccare è semplificata magnificamente dalle onde gravitazionali, quindi è tempestivo, diciamo, questo mio libro per pura fortuna. Però c'è una parentesi che apro adesso sull'effetto fotoelettrico perché mi consente di parlare di un altro aspetto di questa libertà di cui vi voglio parlare. Ed è poi, diciamo, la mia presentazione di come io vedo il giovane Einstein, che è un po' diverso forse, quelli di voi che hanno voluto già leggere qualcosa su Einstein ci riconosceranno qualcosa di un po' diverso da quello che è già stato colto. Ad esempio, come era l'intuito di Einstein? Perfetto. Quindi forse per essere il più grande investigatore della storia bisogna avere molto intuito. Perché a me è particolarmente caro il lavoro di Einstein all'effetto fotoelettrico? Tra l'altro è il suo studio che ha avuto il premio Nobel, ne meritava quattro, tutti ugualmente meritevoli, ma è raro che si ricordi l'importanza di questo studio. Questo è uno studio fondamentale, quello per il quale a lui è stato dato il premio Nobel. Ma perché a me è particolarmente caro? Per capirlo vi devo far calare... Ora mio figlio studia che l'acqua, ha studiato che l'acqua fatta di molecole, cioè nel libro delle elementari. Io devo chiedervi lo sforzo di calarvi nel contesto del sapere, ecco il mio libro è sugli orizzonti. L'orizzonte del sapere di fine ottocento era all'interno molto più stretto di quello che abbiamo adesso e all'interno di quell'orizzonte non c'erano i fatti sufficienti a stabilire che la natura è fatta di mattoncini. Se l'acqua era fatta di atomi, molecole o se era idealmente fluida, non c'era dato sapere come scienziati, ma io non ce l'ho, però diciamo non era dato sapere con i fatti osservativi disponibili a fine ottocento. Quando è così la comunità scientifica si divide ovviamente, il lavoro della scienza è trasformare delle ipotesi in fatti, ma il prodotto è il fatto scientifico, il fatto osservativo. Le ipotesi sono strumento per arrivare a un fatto. È naturale, non vi sorprenderà, che a fine ottocento gli scienziati si dividevano tra quelli che avevano, si chiama l'intuito atomista, capirete che non era molto, già gli antichi greci avevano questo intuito, parte della filosofia greca aveva l'intuito atomista. l'altro campo di scienziati aveva l'intuito che in gergo tecnico si chiama campista, cioè invece l'idea che la natura è fondamentalmente fluida, che non ci sono minime quantità delle cose. Per esempio l'acqua nell'ottica campista di fine ottocento, qualsiasi goccia d'acqua sarebbe stato possibile dividerla in due e ottenere due gocce d'acqua più piccole. Noi ora sappiamo bene che se arrivo ad avere una quantità d'acqua pari ad una sola molecola, non posso dividere ad avere due semimolecole d'acqua. Se divido la molecola d'acqua è finito l'acqua, cioè idrogeno e ossigeno. Questo per caratterizzare semplicemente la differenza tra prospettiva filosofica atomista è quella campista. E scommetto che anche se non siete avi di vettori di cose scientifiche avrete saputo che l'intuito di Einstein era infallibile, questa è una cosa nota. Beh, due domande. Su questa questione atomista contro campista. Chi era un giovane fisico tra l'altro ai margini del mondo accademico, ma quasi un fondamentalista dell'idea campista, cioè uno proprio che avrebbe scommesso tutto sul fatto che non esistevano gli atomi. Chi è che aveva questo intuito particolarmente forte tra fine ottocento e inizio novecento? E poi l'altra persona che voglio che vogliate riusciate a indovinare, chi è che invece ha guidato la rivoluzione quantistica? Cioè chi è che ha portato a individuare i primi fatti a supporto del successo della tesi atomista? Chi sono queste due persone? Il primo sicuramente non sarà Einstein, che il suo intuito era perfetto, quell'intuito era il risultato sbagliato. Ovviamente se ho fatto questo preambolo è perché entrambe le persone sono Einstein. E questa è la cosa più romantica per me, l'avventura scientifica più bella della storia. Cioè l'uomo che più era pronto a scommettere che non esistevano atomi, non esistevano quanti, è l'uomo che ha portato ai passi più importanti per l'affermarsi della prospettiva opposta ai suoi pregiudizi. Non l'intuito, il metodo scientifico. Quando si parla dell'intuito di Einstein non solo si costruisce un mito, ma si impoverisce la libertà di cui ci fa omaggio il metodo scientifico. Liberarsi da un pregiudizio è praticamente impossibile. solo dei fatti. In realtà solo dei fatti sperimentali della nostra vita, che talvolta di natura più semplice, meno forbida, che ci liberano di un pregiudizio. Il fatto che col metodo scientifico un investigatore che ha un pregiudizio fortissimo contro atomi e quanti diventa il paladino, il pioniere della teoria opposta alla sua, è un aspetto di libertà per lui. Un pregiudizio è un aspetto di mancanza di libertà. Per uno come me, almeno, io non sto provando a far adottare a tutti questa prospettiva, ve la offro, so che è peculiare. Per me un pregiudizio è una delle prigioni più orribili in cui si possa finire. E il fatto che ci sia un metodo che ci tira fuori da quella prigione è un aspetto di libertà che per me ha un valore inestimabile. La cosa interessante, nel libro provo a spiegarlo, Vittorio dice in maniera comprensibile, il caso investigativo. Nel mio libro non troverete romanzi, troverete casi investigativi, cioè la scienza non è, ora vi faccio un esempio di quello che invece troverete se ne comprate di più divertenti, meno grigi. Non ci sono casi investigativi. nel mio libro, i pochi fatti di scienza che vengono descritti sono dei casi investigativi, sono persone che fanno il mio lavoro, io sono un investigatore, non sono un artista. Ed è molto interessante. Io in un paio di momenti, questo e un altro, proverò a farvi misurare, usando un abuso di linguaggio per uno come me, quanto siete potenzialmente liberi grazie al metodo scientifico. Questo è un momento, 20 anni è un numero che misura un aspetto di libertà che dà il metodo scientifico, perché l'effetto fotoelettrico era un rebus, chi è il colpevole? Questo è il lavoro dello scienziato, c'è una cosa che non torna, l'effetto fotoelettrico era una classe di osservazioni totalmente inspiegabili all'interno della teoria di Maxwell, la teoria campista che Einstein adorava. Tra l'altro è la teoria che l'ha portato ai primi aspetti di successo accademico, perché la realtà speciale è una cosa che lui capisce essere dentro la teoria di Maxwell dell'elettromagnetismo. Il rapporto tra Einstein e l'elettromagnetismo è molto intimo, molto profondo. L'effetto fotoelettrico è stato il momento di crollo della teoria di Maxwell. Gli scienziati atomisti del tempo hanno avuto 20 anni a disposizione circa, perché dall'osservazione dell'87, la soluzione di Einstein nel 1905. Per circa 20 anni gli scienziati atomisti avevano davanti agli occhi questo fatto sperimentale che gli stava dicendo che avevano ragione. Il caso investigativo era molto complesso però, nessuno scienziato atomista è riuscito a capire che l'effetto fotoelettrico gli stava dando ragione. Chi glielo ha spiegato che l'effetto fotoelettrico aveva ragione? Gli stava dando ragione. Einstein, un fondamentalista della prospettiva campista. Einstein si accorge che l'unico modo per descrivere l'effetto fotoelettrico è vedere la luce, la radiazione elettromagnetica, non come un oggetto capace, un'entità capace di interagire collettivamente con degli elettroni, con delle particelle cariche. L'effetto fotoelettrico è un caso in cui si rende palese il fatto che sono delle componenti della luce, delle piccole particelle dentro la luce, quelle che poi chiamiamo ora fotoni, che stanno interagendo con gli elettroni. Chi lo capisce? L'investigatore che come pregiudizio doveva essere quello meno preparato, ma era il più grande investigatore. Quindi quando in un certo senso, oltre a questo aspetto di libertà che a me piace coni, in un certo senso questo è il tributo principale che posso offrire alla grandezza di questo investigatore. Non il fatto che avesse un intuito infallibile, con l'intuto infallibile non c'è bisogno di investigare, ci prendi e basta. Quindi chi vuole ingigantire la figura esteniana, volendoci descrivere questo intuito sovrannaturale, in realtà agli occhi almeno di uno come me lo sminuisce, perché per me l'impresa grandiosa, la sua più grande impresa è questa. Anche se non è il caso investigativo, è un caso investigativo molto complicato, ma lui ne ha risolto uno, il prossimo che vi voglio descrivere brevemente, ancora più complicato. Però per questo qui lui partiva in una posizione di pregiudizio che senza essere il tipo di investigatore che era, non l'avrebbe mai potuto affrontare. Sottolineo che molti degli errori che lui ha commesso dopo il 1919, dopo il 1919 buona metà del suo tempo, l'ha passata ad attaccare la meccanica quantistica. Lui provava continuamente a trovare dei punti dove la logica, la meccanica quantistica non tornava. Era così forte il suo pregiudizio contro la meccanica quantistica che ha fatto degli errori logici. Nel senso lui ha scritto articoli dove asseriva, no, la meccanica quantistica però qui vi dimostro che non è una teoria logica. I tecnici intervenivano, non era un punto di illogicità della teoria. Dopo il 1919 lo stesso pregiudizio che nel 1905 come investigatore umile della natura, perché lì non si tratta, ma lì si tratta nel 1905 il suo metodo investigativo è guardare i dati, i dati sull'effetto fotoelettrico, dicono delle cose. L'investigatore deve però come tradurre, no? C'è la dipendenza dell'effetto dalla frequenza, non è che esce la bandierina, guarda che questa dipendenza è perché ci sono i fotoni nella luce. L'indizio è l'effetto dipende in maniera molto sorprendente dalla frequenza della luce. Se uno si mette lì umilmente a imparare da questo fatto sperimentale, da abile investigatore può superare i propri pregiudizi. Dopo il 1919 non c'è molta traccia di un Einstein che guarda i fatti sperimentali. Sorpresa, dopo il 1919 il suo pregiudizio, questo è lo stesso pregiudizio, perché quello contro la meccanica quantistica lui l'ha fatta nascere con l'effetto fotoelettrico, ma lui l'ha combattuta più di tutti dopo il 1919. Ma c'è un cambio di metodo evidentemente, è un metodo che non si basa più centralmente su quello che impariamo umilmente dalla natura osservando. C'è poca traccia nei suoi studi di questo dopo il 1919. Il pregiudizio prende il sopravvento. Secondo caso investigativo, questo può darsi che qualcuno di voi, anche quelli che non leggono tanto di scienza, vavrà colpito. L'osservazione delle onde gravitazionali riportata l'anno scorso, era su tutti i quotidiani, e veniva sottolineato bene la natura dell'impresa. Einstein, il giovane Einstein, siamo nel 1915, questo è il caso investigativo più complesso che un umano abbia mai risolto. Dai commissari di polizia, non è che sto parlando, questo è il caso investigativo, se ce lo mettiamo a studiare per bene insieme, concorgerete con me, che è il caso investigativo più complesso che un umano abbia mai risolto. Un aspetto della complessità ve lo farò cogliere bene tra pochi minuti. Per capirci, l'effetto fotoelettrico, vi ho detto, aveva tenuto in scacco la comunità dei fisici per circa vent'anni, ma gli storici sembrano ricostruire che Einstein l'abbia risolto in tre mesi. Il caso investigativo che poi avvale di tutto questo ha portato, quello della realità generale, quello che ha portato alle onde gravitazionali, quell'investigatore che ha risolto il caso effetto fotoelettrico in tre mesi ci ha messo dieci anni. Vi parlo del caso investigativo più complicato che l'umano abbia mai confrontato. Io sto affrontando un caso investigativo adesso più complicato di quello, ma nessuno l'ha risolto, quindi diciamo il riferimento, il record storico su un caso investigativo che un umano sia riuscito a risolvere resta quello che poi ci ha portato alle onde gravitazionali. Quello che voi, senz'altro se non seguite da vicino la scienza, la complessità di quel caso investigativo non ne avrete consapevolezza. Senz'altro vi avrà colpito il fatto che si aveva conferma di una predizione fatta esattamente un secolo prima. quale altra sfera? Questo secolo è un altro, userò un altro numero, ma questo secolo è un altro aspetto di libertà. Cioè quale altra sfera umana ci consente di anticipare un fatto di un secolo netto netto? e purtroppo io talvolta mi rendo disponibile anche a fare quando mi invitano delle presentazioni nei licei, lì capite la mia sofferenza perché immagino sempre che tra quei settanta ragazzi ce ne sono, tre o quattro che come me sentono, no? Mi immedesimo forse anche ottimisticamente, ma forse ora invece sono ancora di più di quanti eravamo noi ai miei tempi e ci sono sicuramente, quando vado al liceo scopro che ci sono ragazzi che sono andati su google a chiedere ma come ha fatto Einstein a prevedere le onde gravitazionali cento anni prima? e beh fatelo se non l'avete fatto, è divertente, troverete le spiegazioni più si dovrebbe fare un libro su quello, spiegazioni folli di come Einstein, la più gettonata, quella che beccate tra le prime hit diciamo di google è questa Einstein un giorno è come cappuccetto rosso, non è diverso no no ma mi fa piacere che ridete, vuol dire che il mio libro non lo dovete comprare cioè io vorrei tanto che il mio libro lo comprasse chi non ride quando legge questa storia se voi ridete era nel suo ufficio la sua finestra dalla scrivania c'era una finestra che dava su un palazzo su quel palazzo stava lavorando un imbianchino quel giorno l'imbianchino perse l'equilibrio e cadde dal quinto piano l'imbianchino è sopravvissuto, se no non era cappuccetto rosso l'imbianchino è sopravvissuto ma Einstein molto emozionato dal sentire la caduta dell'imbianchino si chiese come si sarà sentito l'imbianchino cadendo e fece la retività generale e tutti furono felici e contenti mi avete portato nel posto sbagliato, qui ridono tutti mi dovete portare nei posti dove non ridono a queste davvero diciamo io vorrei andare nei posti dove non ridono perché qualcuno non riderà ripeto fatelo Google se qualcuno continua a proporre questo aneddoto si vede che c'è un bacino di utenza per il quale è affascinante e persino ragionevole non è possibile che c'è gente che scrive che nessuno legge un mercato anche quello della divulgazione ovviamente gli appunti di Einstein di questi dieci anni questo percorso terribile che questo fantastico investigatore si era messo al cospetto di un problema incredibile nei suoi appunti non c'è traccia di imbianchini lui ha scritto lui ha scritto tante versioni della teoria dalle prime che erano davvero ingenue a quelle più mature fino a fine 1915 raggiunge l'equazione centrale della verità generale lui quindi ha abbandonato vari percorsi nei suoi appunti si vede il punto di rottura quando abbandona una teoria che sta provando a costruire non c'è scritto ma no questa non può essere se no l'imbianchino faceva un'altra faccia cadendo c'è scritto e questa non mi dà accordo quantitativo con la precessione del perierio di mercurio certo è molto più grigio e lo so l'imbianchino che cade e invece qua la precessione del perierio di mercurio mamma mia portateci il caffè no e lo so però è bellissima la precessione perierio di mercurio e l'impresa che sto per raccontarvi capire che lo spazio si piega anche questo nessuno lo racconta non c'è traccia fino al 1915 non c'è traccia in nessuna opera di poesia in nessun quadro artistico nessuna folle visionario nessun ubriacone di pub scozzesi nessun umano aveva immaginato che lo spazio si potesse piegare questo metodo grigio di cui vi sto parlando va più lontano dell'immaginazione cioè ci porta a scoprire cose che noi non siamo in grado di immaginare la difficoltà del caso investigativo rispetto all'effetto fotoelettrico dove lui ha la sfida di capire che i dati si stanno allineando con una posizione filosofica opposta alla sua ma una posizione filosofica che lui conosce è una persona di cultura sa la prospettiva atomista non è impreparato a notare che però oh sti fatti mi stanno dicendo che ci sono le palline dentro la luce e basta amen lui qui ha degli indizi che lo portano in un posto che non esiste non è che lui ha un'idea di riferimento è il percorso di investigazione che lo porta a concepire una cosa che nessun'altra espressione umana aveva o avrebbe mai o avrebbe mai prodotto che lo spazio si curva questo è il caso investigativo che ha risolto quest'uomo da giovane gli suoi strumenti non erano in bianchini erano grigi precessione del periodo di mercurio però è bella non è un grigio ma anche nella teoria di Newton della gravità semplifico con un sistema planetario con un solo pianeta e la stella è sparito di nuovo ah stavolta non avevo allora c'è un doppio che questo mi serve perché vedete è una cosa che vi ricorderete da altre letture la teoria di Newton prevede è una teoria molto elegante semplice elegante prevede soluzioni geometriche molto semplici ed eleganti noi diremmo nel caso di un sistema stabile planetario con un pianeta e una stella le orbite del pianeta sono ellittiche famosissimo risultato quello che la natura aveva scelto non era così semplice ed elegante ai nostri occhi ovviamente ad occhi educati è ancora più semplice a metà dell'ottocento la precisione dei microscopi dei telescopi come sempre i fisici che fanno provano sempre a migliorare i loro apparati perché quello è il modo in cui noi riusciamo poi andare oltre un orizzonte no? guadagnando maggiore capacità conoscitiva finalmente a metà dell'ottocento la teoria di Newton per già quasi due secoli ha descritto molto bene tutto quello che si osservava nel sistema solare entro la precisione dei telescopi che si erano avuti in quei due secoli ma a metà dell'ottocento si fa un altro piccolo passo avanti nella precisione dei telescopi quel passo risulta sufficiente a scoprire che c'è la precessione del perielio nelle orbite dei pianeti che vuol dire che le orbite sì a prima vista sono ellittiche la componente dominante di gran lunga dominante questa immagine Gifre ingigantisce moltissimo l'effetto il moto è un moto ellittico nella sua stragrande maggioranza di componenti è un moto ellittico però c'è un piccolo a seconda componente del moto che è di rotazione del piano dell'ellisse questa è la precessione del perielio e questo non si può avere non c'è modo di averlo nella teoria di Newton gli esperti di gravità l'hanno studiato per 50 anni si sono inventati dei pianeti aggiuntivi che potessero tirare mercurio per mercurio essendo il più ora lo vediamo per tutti i pianeti la precessione del perielio ma a metà 800 avevano giusto la precisione per vedere la precessione del perielio di mercurio pianeta più vicino al sole e per il quale quindi gli effetti gravitazionali sono più intensi un puzzle che da metà dell'800 viene risolto nel 1915 da Einstein il compito principale di un esperto di gravità di metà 800 i fisici gravitazionali continuavano a credere che non poteva essere il caso di dover abbandonare Newton doveva essere che c'era qualche protagonista nell'analisi tipo qualche pianeta ancora non osservato che stava creando perturbazioni all'orbita di mercurio perché non erano pronti ad accettare che bisognava andare oltre l'orizzonte di Newtoniano in pratica quella era la prima il primo cartellino che diceva questo la verità è che il grande Einstein è l'investatore più grande ma ha avuto anche fortuna questo caso era così complicato che senza un paio di pezzi di fortuna il primo pezzo di fortuna è che lui non era nato come fisico della gravità l'uomo che ha rivoluzionato la nostra convenzione della gravità è arrivata alla gravità nei primi anni del novecento era uno specialista dell'elettromagnetismo sembra che è una posizione svantaggiosa ma quando si ha investigatori l'importante è chi ha gli indizi migliori può succedere è successo in quel caso che l'indizio più importante per risolvere un problema gravitazionale aveva origine nell'elettromagnetismo perché per Einstein non era solo la precessione del periero di mercurio un problema che aveva Newton la teoria di Newton in quel momento ce n'era un altro da lui percepito come ancora più ingombrante mentre totalmente rilevante per gli specialisti della gravità del tempo lui da grande studioso dell'elettromagnetismo aveva da poco completato il lavoro alla relatività speciale aveva da poco capito che la velocità della luce è la velocità massima per i fenomeni elettromagnetici e ne aveva talmente una conoscenza approfondita di questo limite che per lui era facile aspettarsi che non fosse una proprietà accidentale dell'elettromagnetismo che fosse una proprietà generale nella teoria di Newton i segnali viaggiano a velocità infinita per Einstein questo era persino più intollerabile che il disaccordo con la precessione del periero di Mercurio nella teoria di Newton se io per esempio non si può fare ovviamente ma immaginiamo come astrazione che a mezzanotte di oggi riesco a far sparire il sole non c'è legge fisica quindi non dovete fare scongiuri non c'è legge fisica però prendiamolo come astrazione scompare il sole scomparendo il sole la terra parte per la tangente cioè non ha più l'attrattore quando? cioè se io sottraggo il sole a mezzanotte quando è che la terra parte per la tangente? nella teoria di Newton immediatamente quella forza che lega la terra al sole è una forza istantanea togli il sole la terra è libera questo vuol dire che però l'informazione sulla scomparsa o l'esplosione del sole si è propagata alla terra a velocità infinita la luce ci mette otto minuti a venire dal sole a noi le informazioni gravitazionali newtoniane ci avrebbero messo zero secondi due indizi invece di uno grande vantaggio per l'investigatore Einstein ciò nonostante ci mette dieci anni una lista di fallimenti tanti tentativi in cui una certa formulazione matematica gli sembrava produrre soluzioni a questi due indizi ma poi a calcolare bene per esempio la precessione del perielo di mercurio già nel 2011 ha una teoria che a meno mi sembra di un fattore 3 cioè la precessione del perielo già c'era ma non tornava quantitativamente come effetto qualitativo già era presente in newton non c'è proprio la precessione lui già ha delle teorie che si avvicinano a fare quello che si deve fare però non ce la fanno le abbandona riparte altro elemento di fortuna viene a sapere che in realtà mi piace ricordarlo due matematici italiani Ricci Curbasso e Levicivita proprio in quegli anni portano a maturità il calcolo tensoriale di nuovo per come ad alcuni di voi sarà stata presentata la figura di Einstein sembra quasi che il calcolo tensoriale l'ha inventato lui era perfetto in matematica in fisica su Dio se gioca i dati su tutto invece grande fortuna lui non aveva proprio il talento per sviluppare il calcolo tensoriale era un fisico un investigatore di fatti osservati grande fortuna i matematici guidati da Ricci Curbasso e Levicivita proprio in quegli anni portano a maturità il calcolo tensoriale Einstein ha la grande abilità come fisico di intuire che questo tipo di calcolo potrebbe aiutarlo ma è molto complicato per lui anche questo su Einstein era troppo complicato per Einstein era un fisico non era un matematico abbiamo le lettere tra Einstein e Levicivita soprattutto che era quello più gentile dove Levicivita gli insegna a lavorare col calcolo tensoriale lì non c'era internet non c'era Skype quindi ogni tanto dopo una settimana Levicivita si trova un'altra lettera di Einstein ancora non ha capito sto segno meno maronna mi Alberti non ce la si fa più cioè anche grazie a Levicivita la sua pazienza era un calcolo che per tutti i fisici di quella stagione era complicatissimo con mio forte disagio sia in Sapienza che in Federico II attualmente il corso di realità generale non è obbligatorio era obbligatorio si è deciso che è troppo complicato da imporre a tutti i fisici questo è sbagliato però però è molto complicato non sto qui a descriverlo vi mostro evocativamente però la struttura dell'equazione di Einstein perché lì c'è questa cosa c'è anche solo quell'uguale io non vi spiegherò J-Munu e T-Munu vi spiego l'uguale l'uguale è questa cosa che nessuna si dice come è bello immaginare beh sì è bellissimo perché ci porta lontano però io preferisco studiare la natura perché mi porta più lontano un posto più lontano dove ci ha portato a studiare la natura è questo uguale cioè lui alla fine arriva a concepire un'equazione mentre nella teoria di Newton c'erano due masse che si attraggono un'azione tra masse alla fine lui quando cambia una teoria così immagina di dover scoprire un modo un po' diverso in cui le masse si attraggono in modo tale da far venire ad esempio la precessione del periene la risposta al caso investigativo non era così bisognava eliminare l'interazione tra le masse i corpi agiscono sullo spazio-tempo e basta poi si muovono liberamente questa equazione a destra c'è un tensore famosissimo quello in realtà lo imparano tutti i fisici il tensore energia impulso è un modo di impacchettare davvero tutta l'informazione sull'energia di un corpo non la massa l'energia questa è una differenza significativa ma non significativa come quello uguale perché a sinistra c'è un altro tensore un coso complicato però un tensore che non è a che fare con altra distribuzione di energia altra materia quel tensore codifica la geometria dello spazio materia uguale spazio voi l'avrete imparato all'elementari no la mia maestra mi diceva uguale non fare centimetri uguale centimetri quadri non può essere centimetri uguali centimetri quadri devono essere cose confrontabili materia uguale spazio la mia maestra avrebbe urlato proprio materia uguale spazio è qui che l'immaginazione non poteva arrivare non sarebbe mai arrivata solo la natura ci poteva guidare a concepire questo uguale vi mostro giusto un filmatino veloce per dare intuito a questo fatto che non sono più non vediamo più la gravità ed è infatti solo così che riusciamo ad avere la precessione del perielio la gravità non è più la massa uno che agisce sulla massa due ma sono le due masse che agiscono sullo spazio che si piega e poi entrambe cadono liberamente c'è un'analogia molto efficace che è quella che questo mio collega propone cioè se tendo un telo e ci appoggio due sfere pesanti curvano il telo e poi è come se si attraessero anche se non c'è una molla tra quelle due sfere non è che c'è qualcosa come i i maghi diciamo che hanno il filo nascosto quelle sono libere di cadere sul telo ma il telo si curva a causa della loro massa l'effetto complessivo è come una trazione una totale rivoluzione altro che oltre quello è un orizzonte scavalcato proprio a due piedi ecco non è il salto a volte c'è il salto in alto che si fa con quella tecnica complicata è come se con quella cosa noi avessimo fatto due metri e quaranta saltando a piedi uniti cioè una rivoluzione totale del nostro pensiero e in realtà voglio chiudere mi sa che sto andando un po' non mi ricordo quando abbiamo cominciato ma di sicuro questa parte almeno ve la dico che è veloce c'è un modo di misurare un altro aspetto cioè la libertà dai pregiudizi dal limite un pregiudizio è una prigione per uno come me questo no non pago uno psichiatra ma trovei però diciamo voi potete cogliere a vostro modo un po' di questo valore per me così forte pregiudizio prigione limiti della nostra immaginazione altra prigione non so se riesco no per uno come me orribile qualcosa che c'è in natura ma non posso nemmeno immaginare la vorrei proprio sapere cavolo no prigione l'osservazione delle onde gravitazionali misura quanto io quanto noi in realtà siamo liberi grazie al metodo scientifico in questo senso qui questo è l'oggetto che riesce ad ascoltare in senso figurato a misurare le onde gravitazionali come un orecchio sente le onde acustiche questa è una specie di orecchio per le onde gravitazionali è un interferometro per i miei scopi basta spiegare i tre trattini grigi rappresentano tre grandi specchi di alta ingegneria e le linee giallo verde e blu sono dei fasci laser che vengono usati per controllare con grande attenzione la distanza tra gli specchi capite che con tre specchi io ho due distanze molto facili da controllare con dei laser no quella la distanza verde diciamo e la distanza blu quando arriva un'onda gravitazionale questo lo avevo detto a dei ragazzi in un luce la settimana scorsa forse funziona arrivo un'onda gravitazionale se mi voglio fare una foto al momento giusto perché un'onda gravitazionale dilata le distanze in una direzione e le contrae in quella ortogonale quindi se mi metto così e arriva per così io divento più alto e più magro però lo scatto deve essere precisissimo perché dopo circa un centesimo di secondo io divento più basso e più largo ok come? sì ma anche il fotografo deve avere il fotografo deve essere proprio preciso se no mi becca però questo modo così romanzato in un certo senso però che vi restituisce fedelmente l'effetto dell'onda cioè c'è una correlazione tra quello che fa in una direzione e quella ortogonale nei fasi in cui allunga una direzione contrae quella ortogonale e viceversa capite bene perché questo è un buon orecchio arriva l'onda contrae il lato blu per esempio a un certo istante proprio mentre quello verde viene allungato quindi è particolarmente facile le misure differenziali si chiamano sono quelle più precise che riusciamo a fare cioè cambia la differenza tra i due braccia le due braccia si chiamano l'interferomeno dopo un centesimo di secondo già siamo in una situazione opposta cioè viene allungato quello che prima era accorciato quindi si vede anche questa dipendenza temporale dal punto di vista logico è un oggetto molto semplice da spiegare molto naturale come orecchio per le onde gravitazionali quello che secondo me misura la nostra libertà in un modo particolarmente trasparente e di quanto vibrano le distanze tra gli specchi quando passa l'onda gravitazionale la prima onda gravitazionale che è stata osservata era dovuta essenzialmente allo scontro tra due buchi neri ciascuno di massa decine di volte la massa del sole il botto più grosso di cui abbiamo contezza diciamo l'incidente automobilistico più grosso che per quanto ne sappiamo noi si è verificato l'universo sicuramente se ne verificano anche di più grossi ma noi non li abbiamo quello è lo scontro più grosso che abbiamo visto io sono uno di quei fisici teorici che ho il privilegio di sapere in anticipo prima che venga annunciato quando mi ha raggiunto la voce appunto che avevano osservato due buchi neri di quella di quella massa sono rimasto ma sa che botto che avete preso ok gli interferometri questi cosi qua all'orecchio gli interferometri che usiamo in questa stagione sono tre gli unici tre che hanno la capacità di vedere questi cosi ce n'è uno a Pisa mi piace ricordare la collaborazione italo-francese a un giornalista l'altro giorno ho detto io sono veramente molto addolorato che l'Italia non va ai mondiali mio figlio piangeva quasi piangevo pure io ve lo dico subito non è che il fisico che però mi ha intervistato proprio pochi dopo su queste cose proprio pochi giorni dopo l'eliminazione ho detto guardi sono l'artistato che siamo eliminati fateci caso che con la penuria di finanziamenti l'Italia nella fisica è sempre alle semifinali o in finale non è mai capitato non avrete ancora sentito mi sa nella vostra vita una scoperta scientifica dove l'Italia non è andata ai mondiali sta sempre finale e semifinale essendo il paese che finanzia la scienza meno di tutti i paesi avanzati questo lo sapete quindi c'è quello di Pisa e ci sono i due americani sono tre quanto è grande l'orecchio le braccia forse l'avrete letto le braccia sono di 3-4 km perché così grandi perché l'onda quando arriva riduce ed estende le distanze in maniera percentuale se io faccio un interferometro ci sono degli interferometri funzionanti che sono di 10 cm le braccia lo potrei mettere qui sopra e farvi ci giocare però quando passa l'onda gravitazionale la variazione percentuale su 10 cm è meno percettibile di quella su 4 km perciò abbiamo non è che i fisici allora facciamo vai facciamolo i 4 km no no ci volevano i 4 km l'esercizio per un attimo anche chi lo sa per favore chi l'ha letto nei giornali giusto 10 secondi non mi rovinate l'esercizio perché io vorrei quelli di voi che non lo sanno già questo numero visto che per uno strano come me questo numero misura un aspetto della vostra libertà provate a immaginare fare ipotesi in realtà non immaginare fare ipotesi in questo caso immaginare è bellissimo per uno con me non è la parte più bella di essere uomo ma è una delle parti belle di essere uomo immaginare ma in questo caso vi chiedo di fare un'ipotesi se non lo sapete potete solo fare un'ipotesi di quanto si sono accorciate ed allungati i bracci di questi interferometri quando è passata l'onda gravitazionale prodotta da quel botto terribile su 4 km di quanto hanno vibrato queste distanze di alcuni km di un metro di pochi millimetri pochi millimetri già sarebbe parecchia libertà in che senso sapete un'altra prigione dove eravamo è che non sapevamo del Big Bang faccio una brevissima parentesi non sapevamo del Big Bang non sapevamo quindi del fondo cosmico a microonde sapete come è stato scoperto per il mio libro poi non ce l'ho messo Vittorio si arrabbierà però quella è una storia bella a raccontare è stata scoperta non con un caso investigativo così c'erano degli antennisti poco meglio di quelli di Sky non so chi viene a casa cosa certo però erano degli ingegneri ma stavano giusto facendo funzionare un'antenna non stavano proprio cercando niente che avesse a che fare con lui stavano lì a far funzionare quest'antenna e quest'antenna c'era sempre rumore un'antenna per funzionare bene c'era sempre rumore ma che è questo rumore questi cercavano di dopo una lunga storia si è capito che quel rumore era il rumore di fondo del nostro universo è in realtà l'eco del Big Bang ci si è inciampati non tutte le libertà sono faticose come la realtà generale alcune volte viva Dio ci inciampiamo pensi a se Wilson stavano facendo un'antenna e ci hanno liberato da una prigione però chiaramente più irraggiungibile per la nostra condizione è un pezzo di verità più liberi siamo quando la conquistiamo se la vibrazione degli specchi fosse stata di un metro prima o poi ci inciampavamo posso dirvi sapendo come sono inciamponi gli scienziati prima o poi ci inciampavamo qui in prima fila la proposta è un millimetro un millimetro già è difficile immaginare senza la precessione del perielo di Mercurio senza Einstein che sta lì e ha un pazzi dieci anni però forse un millimetro ci inciampavamo però già un millimetro se era un millimetro già siamo stati liberati parecchio vattene accorgere che ogni tanto ci sono delle distanze che fluttano un millimetro poteva capitare a qualche antennista ma siamo più liberi di così un miliardesimo di metro alla nostra libertà saremo riusciti a vedere questo botto terribile avrà fatto vibrare le distanze di un miliardesimo di metro quella sì che sarebbe un'enorme libertà perché non ci saremmo mai accorti nessun antennista nessun fisico inciampone quindi non avremmo mai saputo cioè noi avremmo vissuto l'umanità avrebbe vissuto senza mai immaginare non conoscere questo è il punto a cui più tengo di questa presentazione senza mai immaginare che lo spazio vibra se fosse stato un miliardesimo di metro ma in realtà siamo molto più liberi di così gli specchi hanno vibrato perché il botto era quando mi hanno detto 10 alla meno 20 metri a me non hanno detto la massa dei buchi a me hanno detto 10 alla meno 20 metri quando ho sentito 10 alla meno 20 metri ammazza che botta mamma mia ma che avete preso che ancora non avevo per sapere che sono due buchi neri e la massa devi fare analisi dati ci vogliono settimane quando io ho sentito io ho sentito come prima cosa 10 alla meno 20 metri mamma mia che avete preso 10 alla meno 20 metri è una misura della nostra libertà vuol dire che prendi un metro lo dividi un miliardo di volte quello che ottieni lo dividi ancora per un miliardo di volte e quello che lo dividi lo dividi ancora per cento volte è questo quanto siamo liberi è questo quanto oltre della nostra immaginazione possiamo andare almeno nel punto di vista di uno strano come me chiudo perché mi sa che sono già oltre il tempo tipico di una presentazione così potevo metterlo all'inizio ma lo metto alla fine perché in un certo senso mi sono presentato a voi con questa presentazione quindi ora che l'ho fatto tutta questa lista tutto l'orrore che provo per la teoria del tutto non vi sorprende più prima di tutto però fatemela fare questa lista e poi vi saluto prima di tutto l'idea del tutto viene presentata come una cosa fashionable una cosa cool una cosa osserviamo però che chi adesso in questo momento dice che può fare per fortuna non dicono che l'hanno già fatta ma annunciano sempre tra cinque anni dicevano tra cinque anni quando io stavo all'università sono ancora cinque anni forse è un'informazione invariante notiamolo che questa bella cosa di fare la teoria del tutto vuol dire che siamo poveri però perché vuol dire se noi con le informazioni sulla natura che abbiamo adesso abbiamo gli elementi per descrivere tutto chissà cosa vuol dire ma usiamolo colloquialmente non so dar senso alla parola tutto secondo me nella condizione umana è una cosa bellissima della condizione umana che noi non abbiamo modo di dar senso alla parola tutto quando vi parlano di teoria del tutto voi chiedetegli cos'è tutto silenzi e poi chiedetegli di questo tuo tutto quanto ne conosciamo adesso perché c'è un altro fatto che i teorici del tutto non raccontano spesso però da qualche parte esce questo fatto cioè quello che osserviamo nel cosmo quello che noi riusciamo a riconoscere come cose da noi già note è il 5% tra 5 anni siamo a tutto però ci abbiamo messo 4 secoli a fare il 5% ma c'è un'accelerazione prevista imminente però è un fatto oggettivo cioè l'universo attualmente noi lo descriviamo come 75% energia oscura 20% 71% 71% energia oscura 5% materia nota e il resto materia oscura cosa sono materia oscura energia oscura niente cioè sono cose che vuol dire quello che capiamo è il 5% però non lo diciamo troppo chiaro allora al resto ci diamo un nome ma il nome è una cosa che non conosciamo il nome di solito si dà una persona che uno conosce invece come se io vengo qua invitiamo Francesco ma non è una persona che conosciamo quindi alla cena c'eravamo io Giuseppe e Francesco ma però è triste se anche fosse possibile questa accelerazione è triste vuol dire che noi non abbiamo più niente davvero da scoprire cioè se tra 5 anni abbiamo la materia del tutto chiudiamo il negozio diciamo non c'è più niente di nuovo da scoprire non c'è l'orizzonte attuale è l'ultimo orizzonte è inutile provare a guardare oltre è l'ultimo orizzonte siamo quelli sfigati secondo me se fosse così per Weinberg è il sogno di una teoria finale per me è la fine del sogno la fine sarebbe per fortuna impossibile e l'ultima cosa il resto non è però l'ultima cosa è l'allarme che faccio questo sì a fine libro a carattere cubitale mentre scrivevo il libro da qualche isolato caso di fisico che parlava sì fra pochi anni avremo la teoria del tutto Weinberg ora mai pure lui ha la sua età ha fatto grandissime cose Weinberg probabilmente il fisico teorico migliore del dopo guerra Weinberg ok però da lì siamo passati di recente c'è una corrente filosofica che si chiama post empirical science nei paesi anglosassoni io ora non posso perdere ogni volta che incontro i cittadini l'opportunità il mio dovere è almeno dirvelo si sta affermando affermando no per fortuna però sta avendo consistenza l'idea di post empirical science si chiama post empirical sapete post tutte le cose post war tutte cose alla moda post empirical io ho il dovere poi voi fate cosa ne volete post empirical dovete di allettarvi voi leggete perché queste sono cose che devono decidere i cittadini non può lo scienziato diciamo qua sono vostre decisioni che ho detto solo a voi voi dovete voi secondo me avete il dovere di documentarvi per i vostri figli per i vostri cani post empirical science ha un nome molto fashion post in inglese è la panacea post meglio no? post di solito è meglio però se leggete i contenuti se leggete i contenuti è l'inquisizione se leggete i contenuti è sapere scientifico che non si afferma più per avere trovato riscontro nella natura si afferma per il consenso che ha tra gli scienziati ecco vedo di nuovo qui prima ridevate ora vedo facce preoccupate forse potevo anche non venire però meno male diciamo però allora parlate cioè è una cosa di cui questa è una cosa di cui gli scienziati io non posso farci nulla capito? qui questo può diventare è giusto che sia considerato massima libertà queste persone hanno un'idea del sapere che i cittadini devono scegliere se condividono o no se non la condividete voi io non la condivido ma questa non è una cosa che io vi posso insegnare cioè vi posso insegnare il caso investigativo scientifico questa è una vostra posizione però io vi chiedo di pensare se volete fare una scelta di campo per voi il sapere sulla base del quale decidiamo è un argomento lo so scomodo se vaccinare i nostri bambini gli argomenti che dobbiamo usare per quella decisione sono basati sono da basare sull'osservazione della natura o sono da basare sul consenso tra scienziati sembra quasi la stessa cosa perché la natura la osservano gli scienziati però chi vi deve proporre la decisione chi si basa su fatti osservati o chi si basa su un'ipotesi condivisa tra altri professionisti diciamo su questo vi saluto anzi è un brutto finale però non potevo eliminarlo perché ci tengo molto e vi ringrazio per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti